stavo lavando i piatti quando a me è successo un incidente purtroppo mi si è roto questo splendido tazzone cinese sono riuscito a incollare una parte anche se è rimasta tutta celebrata però l'altra non va a incastro non riesco a farla entrare a farla combaciare perché mi sono affrettato a incollare la prima parte che disdetta che peccato è così bello questa tazzone sono molto triste ed amareggiato perché io sto attento a quando lavo le cose ho anche fatto un video tutorial di come lavare le stoviglie giustamente mi doveva succedere questa disgrazia il mio bel tazzone cinese allora commentate questo video aiutatemi dategli like e condividetelo forse tutti insieme riusciremo a raggiungere le 4000 ore di visualizzazione all'anno e forse youtube arriverà a pagarmi così mi compro un altro tazzone cinese nuovo ma non voglio buttare via questo cercherò di ripararlo perché non posso permettermi di comprarne un altro almeno condividete questo video non combacia mi sono affrettato attaccare questa parte non combacia ma la parte che ho attaccato con l'attac non la posso staccare avrei dovuto attaccare insieme non combacia che catastrofe perché è celebrato il taglio non combacia non combacia che disastro e ho sprecato un intero tubetto mannaggia me l'ha dato una soluzione come attaccare questo coso qua beh vi devo lasciare sto raggiungendo cinque minuti l'applicazione gratuita come faccio adesso c'è anche questo questo pezzettino qua qua il vostro sentenciano disperato ciao